non parliamo di cosa accadrà ma stiamo facendo una breve video inchiesta per il sito di libero mi sono portato lo strumento di lavoro per tutti per sentire che tagli si possono fare l'ha chiesto il premier di suggerire tanti tanti ma c'è davvero tanto grasso che cola dappertutto abbiamo casi di grandi eccellenza in tutte le aree della pubblica amministrazione i ministeri nelle amministrazioni locali abbiamo casi di un po meno eccellenza basterebbe che quelli un po meno con meno esperienza imparassero da quelli bravi con grande esperienza che potremmo ridurre molto ma c'è spazio per le forbici anche su pensione e sanità che sono quelli che in casa pd sono un po più sensibili come temi no pensione assolutamente non è sull'ora del giorno sanità non bisogna tagliare assolutamente il livello di servizio bisogna aumentare il livello di servizio soprattutto in alcune aree però quando un la famosa siringa costa uno da un lato e tre dall'altra si può ridurre anche lì si può ridurre anche lì senza tagliare i soldi grazie grazie buon lavoro arrivederci